Lunedì sono state convocate ancora 5 ragazze alle selezioni regionali. Cosa puoi dirci della situazione? Le 5 ragazze rientrano nelle 18 che sono state convocate. Ormai Max Ruini sta chiudendo un po' il cerchio. Sono andato anche a Milano e ho visto che praticamente si stanno chiudendo un po' i giochi. Quindi ci sono 3 palleggiatori che stanno prendendo scelte azioni, 3 liberi, 3 centri e poi un po' più di attaccanti. Cosa ho visto? L'allenamento è stato basato, dopo una fase di scelta, molto su situazioni di gioco. Perché a Ruini ovviamente vorrei avere un po' la capacità loro di stare in campo e di viversi. Parlando delle nostre, devo dire che tutte e cinque si sono comportate egregiamente, con personalità, con voglia di mettersi in gioco. E pertanto sono molto contento. Le 5 ragazze chiaramente chiamate in questo circuito, va bene, sono sicuramente molto brave, sicuramente lo meritano, però volevo anche sottolineare che tutte le ragazze che vengono allenate sono molto qualitative, tutte stanno molto crescendo, pertanto chi ha la fortuna di essere nel circuito delle invocazioni regionali è una buona cosa per loro, è una buona cosa per noi, ma non dimentichiamoci di tutte le altre ragazze che comunque si impegnano e sono altrettanto, nello futuro, brave come queste cinque che vanno duemilando regolarmente. Bene, domenica, durante la partita dell'Under 18 abbiamo visto che ti sei volutamente un po' allontanato dal gruppo. Ci racconti come hai spiegato la tua decisione alle ragazze? Ma allora stasera ho parlato un po' con loro spiegando un po' ciò che vorrei vedere quest'anno. E' due anni che noi abbiamo fatto grandi cose, il primo anno abbiamo lavorato molto su quello che era la cultura sportiva, sulla mentalità del lavoro, il secondo anno abbiamo inciso molto di più sulle persone tecniche e tattiche, su quello di gioco e ho notato che alla fine dell'anno scorso quello che poi ci mancava era un po' la cattiveria agonistica o comunque una sorta di interventi. Denote un luogo delle ragazzine che sono sì giovani, che però hanno sempre bisogno di un qualcuno che motivi dall'esterno, che possa essere io, con magari qualche reazione un po' energetica, con qualche comporto o comunque tutta una serie di processi psicologici che un allenatore può attuare.